Valentina, la prof di LinkedIn, oggi parliamo degli applausi. Cosa sono gli applausi? Sono i complimenti o comunque le elevazioni che puoi fare verso una persona. Per elevazione intendo dire io rispetto questa persona, secondo me questa persona è la persona giusta perché ha fatto questo e questo, è un leader motivante, è una persona che fa altre cose molto interessanti e c'è proprio uno strumento e si trova vicino alle foto, ai video, a quello che puoi aggiungere come post. Prova a utilizzarlo, tagga la persona giusta e mi raccomando non farlo come compiacimento verso quella persona, lo devi fare solo se lo pensi veramente, altrimenti si vede che stai dicendo una bagianata, si vede che sei falso o falsa, quindi usalo con cautela, mi raccomando e ricorda esagera sempre!